Se anche tu vuoi fare queste giocate su Warzone 3, se è capitato nel video giusto, perché con queste nuove migliori impostazioni riuscirai a spaccare tutte le lobby, garantito al 100%. Sì, altra casa messa, è il più giusto, è il più giusto, è il più giusto. Ho deciso di fare questo video perché da quando è arrivato il nuovo pc qui dietro, che è una bella bestia, infatti ve ne siete accordi tutti quanti, degli fps che fa, è stato assemblato da Gaming Generation, vi lascio tutti i link in descrizione, sono anche in periodo di sconto. Nel sito troverete dei pc già personalizzati ed ordinati da altri utenti, in modo che possiate prendere spunto e magari personalizzare pure il vostro, vi basterà scrivergli una mail oppure contattarlo su Instagram e creerà la build che fa più al caso vostro con il vostro budget. Provate magari a chiedergli anche la versione un po' economica di questa bomba, così sparate 400 fps risparmiando anche qualcosina. Sono estremamente sicuro che Alessandro avrà voglia di accontentarvi, quindi provate a scriverli, non ne rimarrete assolutamente delusi. Adesso, come stavo appunto dicendo, dopo l'arrivo della bestiolina, una delle domande che mi avete più fatto sotto dei commenti, in privato, ovunque, durante le dirette, è stata proprio facci vedere le tue impostazioni. Quindi quest'oggi ho deciso di fare un video definitivo delle impostazioni che appunto sto utilizzando in questo periodo. Altra piccola parentesi, ho appena fatto il boost fps con Enjoy the Boost, che è un team di professionisti che si occupa appunto di migliorare le prestazioni del vostro pc. Nel mio caso più che un boost è stata una stabilizzazione degli fps. Vi lascio il link in descrizione se avete un pc e foste interessati ad ottimizzarlo, quindi togliere delay, aumentare gli fps, quindi in poche parole far andare la vostra macchina al 100% delle sue possibilità, è il servizio che fa il caso vostro perché veramente sono i migliori. Abbiamo finito con i servizi che ho utilizzato io stesso per arrivare a questo setup che vedrete quest'oggi e quindi diciamo che possiamo subitissimo entrare a parlare delle impostazioni che trovate ovviamente nel gioco. Queste impostazioni andranno bene sia su pc che anche su console, quindi playstation 5, xbox eccetera. Ovviamente ci saranno delle variazioni soprattutto nella parte grafica, mentre parlando delle migliori impostazioni di controller, quindi zona morta, curva di mira, sensibilità eccetera, quelle vanno benissimo per tutti. Quindi non ti preoccupare, ce n'è per tutti. Iniziamo subito. Apriamo le impostazioni e guardiamo subito la grafica. Su modalità video la cosa migliore è impostare solo per schermo intero, per ridurre al minimo tutti i delay delle varie periferiche che possono essere appunto pad, mouse, testiera, insomma chi più ne ha più ne metta. Scendendo ovviamente selezionate il massimo degli hertz, il massimo della qualità, le proporzioni immagini ovviamente devono essere quelle del vostro schermo e qui ragazzi copiate tutto perché alla fine è ottimale così. Passando alla qualità, risoluzione dinamica mi raccomando mettete su no. Come upscaling uso Fidelity CAS e appunto lo tengo a 100. Si può provare magari a portarlo da 90 a 100, vedete un pochino voi, giocateci, fate degli esperimenti. Obiettivo scala VRAM utilizzo 90. Questa opzione è molto importante, secondo me se avete un pc che fa un po' fatica vi consiglio di attivarla. Nel mio caso il mio pc è tutt'altro che in difficoltà per reagire le warzone quindi ho preferito disattivarla. Qui ragazzi è molto importante selezionare tutte le opzioni basse oppure addirittura toglierle, come in questo caso ve le sto facendo scorrere lentamente proprio per appunto fare in modo che voi possiate fare uno screen e copiarvele. Mi raccomando mettete tutto basso, su Warzone non ha davvero senso pensare alla grafica, principalmente perché ci sono stati degli studi che hanno appunto affermato che il nostro cervello si stanca molto di più quando sono presenti molti più dettagli all'interno del gioco, all'interno del nostro schermo, quindi se noi stiamo visualizzando tutta l'erba, ci sono dei quadri, ci sono dei divani perfetti, delle sedie tutte dettagliate con magari qualche crepa, sto facendo degli esempi, magari noi nemmeno stiamo pensando a quelle cose, però il nostro cervello, i nostri occhi stanno captando quelle informazioni e quindi perderemo molto prima il focus. Per questo vi consiglio di tenere tutto al minimo per non stressarvi troppo. Su visuale io vi consiglio di tenere il campo visivo a 120, mettere relativo, poi la visione dell'arma ovviamente mettete larga, è più bello secondo me anche esteticamente parlando, e qui appunto potete copiare tanto le cose importanti sono togliere ovviamente il motion blur e mettere 50 e 50, poi tutto il resto è un po' inutile, ok? Passiamo all'audio, dopo vi darò qualche consiglietto, qualche chicchettina molto interessante e che in molti trascurano ne sono sicuro di questa cosa. Io sto utilizzando in questo periodo altoparlante PC oppure home theater, sono due impostazioni che personalmente ho trovato molto buone, almeno nell'ultimo periodo, in accoppiata con il loudness equalization, che dopo vi faccio vedere come attivare, si può attivare però soltanto su PC. Andando giù qua vi apro appunto come tengo il mio mix audio, chat vocale, vabbè mettete voi quanto volete sentire al chat vocale, e qui cercate appunto di copiare queste impostazioni perché vi permetteranno di sentire, di vedere il nome di chi sta parlando, non facendovi spottare perché modalità microfono io ho premi per parlare, quindi dovrò premere Z per appunto attivare la mia chat di gioco, io sentirò loro ma loro non sentiranno me, geniale no? E qui ragazzi appunto impostate tutto quanto come vi sto facendo vedere, riduce audio acufene io lo tengo di sì, mi ci trovo molto bene, essendo che ho anche qualche problemino alle orecchie però, vi consiglio di attivarlo insomma. Passiamo su interfaccia, praticamente su interfaccia raga, una delle cose che posso consigliarvi è di attivare filtro 2 e mettere appunto entrambi 100-100, i colori saranno molto più accesi e molto più carini, e poi un'altra cosa che in tanti trascurano è appunto il mirino, qua appunto di base sarà impostato su sì, quindi il pallino centrale in mezzo allo schermo seguirà i vostri movimenti, quindi ondeggerà, possiamo dire così, vi consiglio di metterlo su statico. Per ragazzuoli appunto qui vi lascio un attimino le mie impostazioni, potete benissimo copiarle. Parliamo finalmente del controller, una delle cose che sicuramente interessano più maggiormente al mio pubblico, infatti tutte le domande sono che mira assistita usi, che curva di reazione usi, insomma tutte domande del genere, sensibilità eccetera, queste sono le mie nuove impostazioni che sto utilizzando e con cui mi ci sto trovando davvero bene, infatti ho cambiato anche un po' di zone morte, ma adesso vi faccio vedere tutto. Schema comandi, io utilizzo quello predefinito perché utilizzo il PS5 Edge, quindi ho le palette dietro e non ho la necessità di mappare tasti, però secondo me attualmente forse il migliore è Bumper Jumper Tattico, che vi permette di fare un sacco di funzioni senza mai staccare le dita dall'analogico, quindi è molto più complicato rispetto a avere le palettine posteriori ovviamente, però è una soluzione più economica, sicuro. Vibrazioni controller ovviamente no, qui potete lasciare 0, mettere 100, quello che volete tanto è disattivata. Zona morta, queste sono le mie zone morte aggiornate e mi ci sto trovando davvero molto bene. Tengo la minima a sinistra 1 e la massima a 50, quella di destra l'ho impostata a 6, mi consiglio di impostarla da un range di 5 fino a un massimo di 12 e quella massima a 99, poi grilletti ho messo a 3, potete mettere 2, quello che volete raga, insomma state in un valore abbastanza basso, questo appunto ve lo consiglio. La zona morta può essere regolata sia in base all'usura del vostro pad, quindi se avete un pad molto usurato che tende a muoversi da solo ovviamente dovrete tenere questo valore, quello di destra, leggermente più alto. Se invece avete un pad nuovo di stecca che funziona tutto alla perfezione, io vi consiglio di impostare circa 6. Andiamo su puntamento, io utilizzo 10-10 di sensibilità, scendendo possiamo trovare la curva di mira dinamica e appunto l'ho tenuta a 1, mi ci trovo molto bene con dinamica, non ho mai avuto la necessità di cambiarla, quindi non uso né lineare né standard, usate dinamica, secondo me è la migliore, prendeteci la mano e secondo me spaccherete tutto. Non vado a cambiare nessun moltiplicatore generale, ma vado a personalizzare ogni sensibilità dello zoom, quindi qua imposto sì, apro appunto il menu a tendina e queste sono le sensibilità per ogni tipo di zoom. Vi faccio un esempio concreto, avendo impostato 10-10 sensibilità, quando io andrò in modalità mirino, avendo messo un valore di 0-80 ridurrò del 20% la mia sensibilità, quindi sarà come mirare con 8 di sensibilità. Vi consiglio qui di tenere, almeno in questi primi 3, un valore che va dal 0-70 fino appunto all'1. Non mettete valori troppo bassi perché vi troverete ad avere una sensibilità molto alta magari in modalità mirino libera e poi quando andrete a mirare rallenterà troppo e non riuscirete a fare delle buone traccate, quindi trovate la vostra sensibilità giusta e il vostro moltiplicatore. Più alta è la sensibilità più il valore secondo me si dovrebbe avvicinare allo 0-70, questo è un pochino il tutto. Andando giù ovviamente mira assistita, sì per forza, tipo di mira assistita predefinito e qui appunto lasciate tutto quanto com'è. Andiamo su gioco, queste adesso ve le faccio scorrere, sono le mie impostazioni, fateli un bello screen e copiatele, secondo me sono le migliori, alcuni le utilizzano un po' diverse però con questi io mi ci sto trovando un sacco, ma veramente un sacco bene, provatele fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti come vi siete trovati, penso che abbiamo detto tutto, insomma vi faccio dare un attimo una breve occhiata di nuovo a queste impostazioni così che non possiate sbagliarvi e vabbè queste giù sono praticamente tenute standard, le cose che ho cambiato sono principalmente queste che sono le più importanti, ok? Con queste nuove impostazioni sono sicuro che la vostra mira, il vostro movement miglioreranno sicuramente, ne sono convinto al 100%, vi lascerò tutti i tutorial qui sotto in descrizione quindi se dovete allenare la mira c'è un video dedicato, se volete migliorare nel movement anche in questo caso c'è un video dedicato dove spiego passo passo tutto quanto, se sei arrivato a questo punto del video e hai il pc mi ringrazierai perché adesso ti sto per svelare un'impostazione che già ti ho fatto vedere precedentemente ma che ho un pochino ottimizzato, se giochi da pc sicuramente saprai che esiste una cartella che si chiama Call of Duty in documenti, questa cartella contiene tutte le informazioni grafiche del gioco e che appunto sono state ottimizzate da Enjoy the Boost, quindi se vuoi anche tu un'ottimizzazione e una riduzione ulteriore di tutti i vari dettagli di cui ti ho spiegato prima e quindi ottenere un boost di fps e comunque di prestazioni nel gioco, fatti sistemare questa cartella perché veramente è abbastanza importante, comunque io ti faccio vedere un'altra impostazione che si chiama Game Profile Zero Base, dovrete aprirla con il block notice, fate ctrl f, cercate sprint, premete invio e qui ragazzi sarà impostato 400, mettete non 0, mettete 1, io mi ci trovo molto bene con 1, in poche parole tenderà a farvi fare meglio lo slide senza alcun delay quando andrete ad attivare lo scatto tattico automatico, insomma non mi sono spiegato lo so, però provate, mettete, fate un po' di esperimenti, vedrete che vi troverete sicuramente bene, adesso ti faccio vedere anche come migliorare l'audio, molto semplice, ti basterà aprire impostazioni audio, scorri giù e apri altre impostazioni audio, dispositivo con la quale ascolti l'audio, vai su caratteristiche avanzate, equalizzazione e sonorità, cliccaci sopra, apri le impostazioni e sposta tutto quanto su breve, premi ok, applica e di nuovo fai ok. In questo modo i tuoi suoni saranno molto più bilanciati, sentirai molto meglio i passi e sono sicuro che ti troverai molto meglio. Provate queste impostazioni, lasciate un like, un commentino e fatemi sapere come vi siete trovati, inoltre non dimenticarti di iscriverti al canale se vuoi sostenermi e supportare questo mio percorso, grazie mille veramente se lo farai, ringrazio tutti quanti per la compagnia e per la visualizzazione, alla prossima, bella boys!